Ci sono luoghi in cui non penseresti mai che certe cose potessero accadere, posti nei quali l'umana meschinità non dovrebbe mai entrare, eppure questo accade anche più soventemente di quanto noi possiamo pensare. Un cimitero è uno di questi posti in cui chi ha cari e parenti a cui portare fiori o sulla cui tomba soffermarsi in raccoglimento non ha difese, verso gesti che col dolore e col ricordo non hanno nulla a che spartire. Ma nei cimiteri e anche in quello centrale di Fano si ruba. Ci sono persone che rubano e che sono capaci di infliggere dolore al dolore, come è accaduto a Marina, che qualche giorno fa, mentre faceva visita alla tomba del padre, si è accorta della mancanza di un oggetto. Un oggetto di poco valore materiale ma di grande significato per lei, una stella marina, per simboleggiare il legame con il mare, essendo stato suo padre un gran marinaio. Ma non vedere la stella marina lì ha aggiunto sale, sulla ferita già aperta, di un dolore mai spento. Sono andata alla tomba di mio babbo e mi sono accorta che c'erano i vasi ribaltati e avevano rubato la stella marina che gli avevo regalato di ceramica. Queste cose sono fatte molto male, non devono capitare. Anche perché non è il fatto del valore di per sé, ma proprio questione di principio. Queste cose non devono avvenire, secondo me. I morti vanno lasciati in pace e con loro anche le cose che uno regala, affettuose. Io faccio questo appello, pur che qualcuno mi ascolti, chi ha preso questa cosa, di riportarla al posto dove l'hanno presa. Qualcosa che non dovrebbe affatto accadere, ma che invece è più frequente e costante di quanto si pensi. E chi lo subisce unisce rabbia a rassegnazione. Due vasi. Due vasi. Li avevo appena cooperati, poi l'hanno preso da me e l'hanno messo in un'altra tomba. Io l'ho riconosciuto e l'ho ripreso. Porto i fiori e poi dopo non li ritrovo più. Eh ma uno, due, come a lei, una rosa, quelle cose. Da quanto va questa situazione? Mio figlio è sei mesi che è morto, prima non lo so. E quindi insomma lei sei mesi che ha questi episodi. Ogni tanto, ogni tanto, non diciamo sempre, ma ogni tanto manca. Una brutta pagina, una brutta pagina della nostra società. Una pagina che non dovrebbe mai essere scritta.